È una bocciatura perché per l'ennesima volta, per il terzo anno consecutivo, non è un bilancio che si possa definire tale, perché lo dicono loro, lo dichiarano, è un bilancio che prevede soltanto le spese obbligatorie e vincolate, non ci sono risorse per la nostra comunità e soprattutto per risolvere i problemi della nostra comunità. È un bilancio che non prevede risorse aggiuntive per la sanità, quando invece vogliono mandare in vigore dal 1 gennaio 2023 la nuova legge dei riordi nel sistema sanitario regionale, che lo stesso governo gli dice che non può essere fatta di invarianza finanziaria, è un bilancio che tra l'altro non finanzia neanche le leggi che andranno in vigore il prossimo anno e che hanno adottato loro. Addirittura le risorse che venivano previste, un milione circa sul corrente e due milioni circa sugli investimenti per finanziare queste leggi, sono stati depennati dalla Commissione perché le risorse sono state destinate per soddisfare le esigenze dei singoli consiglieri, le cosiddette, diciamo, quelle che loro definiscono, voglio ripeterlo anche qui è brutto, ma quelle che loro chiamano le marchette elettorali, dei singoli consiglieri in una indecorosa spartizione tra di loro ai danni appunto del bilancio regionale e soprattutto degli interessi della nostra comunità che non si viene riconosciuto alcunché, ad esempio sul caro energia, sulla crisi che colpisce le famiglie, sul non ci sono risorse assolutamente insufficienti sul dissesto idrogeologico e per la messa in sicurezza del territorio dopo il drammatico alluvione di alcune settimane fa, di alcuni mesi fa, quindi è un bilancio che per la terza volta non c'è, ma questo lo dicono loro perché dicono appunto che è un bilancio che prevede soltanto spese obbligatorie e spese vincolate, quindi non c'è alcuna risorsa.